Ciao amici e ben ritornati su youtube Alex dovrebbe essere arrivando a breve e io volevo fargli uno scherzo aspetta mettiamo un po' più in qua la telecamera praticamente metterò la cartella lì sopra in modo tale che quando arriva di cadere addosso ora li aspettiamo ok mi sa che sono arrivati vediamo eccoli eccoli ok mi sa che sta arrivando mi nascondo Luca sei di qua? si si vieni sto facendo i compiti ci sei cagato in mano un cagato è sei un cagliore beh ragazzi che c'è fatto? secondo me cos'è cazzo? ah mamma me l'hai tirato fortissimo e l'ha fatto un zan ah no 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 è un emerito coglione ma con la c maiuscola da dove veniamo cini né? grazie a tutti